buongiorno a tutti qui Arduino Schenato da IRforex.com e un altro video operativo oggi per spiegarvi quello che è la base di ogni movimento e come capirli, cercare di interpretarli in modo migliore e magari riuscire ad afferrare alcuni trade molto interessanti e che lavorano nell'ottica di trend following, quindi di seguire la tendenza ovviamente questo tipo di approccio al trading è price action avanzata come quella che cerchiamo di trasmettere ogni giorno nella scuola Platinum che trovate sul sito IRforex ma sempre con la dovuta semplicità e senza cose troppo incasinate o difficili quindi cerchete di seguirmi adesso in quello che andrò a dirvi a come si legge un pavimento nel momento in cui c'è un trend al rialzo in realtà poi è la stessa cosa del soffitto quando c'è un trend al ribasso io oggi vi farò vedere un esempio sull'australiano ma poi posso prendere anche un'altra copia di valute questo tipo ovviamente di approccio va, quindi la price action per come la utilizzo io va utilizzata principalmente sulle maggiori coppie forex, i maggiori indici, le maggiori materie prime cioè i mercati più liquidi allora guardate un po' che cosa succede, cosa significa, cosa intendo per pavimento cioè nel momento in cui c'è un mercato che riprende il suo movimento rialzista quindi in questo caso stiamo parlando di un movimento rialzista ci sono sempre da seguire che cose? i movimenti di massimo e minimo di swing i swing high e i swing low ecco qua, vi faccio vedere quindi queste cose sono parte integrante della lettura, diciamo, della price action ok, e via dicendo tutte queste, questi swing high e swing low spesso creano anche delle opportunità di trading per noi che facciamo lettura del prezzo e come si fa? dobbiamo leggere quali sono i pavimenti del mercato sui quali lavorare quindi nel momento in cui io trovo, qui trovo il primo pavimento cioè il prezzo si è fermato si è completamente fermato boom, movimento quindi di massimo e poi nuovo pavimento poi ancora boom, movimento di massimo tan, e pavimento poi ancora movimento di massimo pam, e pavimento eccolo qui poi massimo e pavimento massimo e pavimento vedete come molto semplicemente leggo i punti di massimo e pavimento quindi soffitto e pavimento perché la metafora ci sta perfettamente per farvi capire che tipo di cosa voglio vedere e in un trend rialzista che si va a interpretare con i massimi, i minimi, crescenti swing low, swing high quindi quando riuscite a creare un 1, 2, 3 chiamatelo come volete eccolo qui che il movimento crea una situazione di trend ecco che nel momento in cui lui poi si ferma e crea un possibile pavimento ci crea la possibilità di fare delle entrate quindi fa un movimento nuovamente di massimo crea pavimento e magari ci da l'opportunità di creare delle nuove entrate e ancora boom qui niente tac eccolo qui massimo pavimento e magari ci da la possibilità di fare delle nuove entrate anche qui adesso vediamo e quindi che cosa voglio dire è inutile andare a cercare chissà quali formule magiche cercate di capire quando il mercato fa dei pavimenti molto chiari e da lì crea dei segnali quindi o crea delle 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 dinamiche di prezzo chiare quindi crea pavimento vediamo il primo pavimento che ha creato è qui lui riparte con questa barra bianca barra bullish movimento di 3-4 giorni rialzisti poi ancora guardate qua crea qui boom un pavimento qui fa falsa rottura del minimo e poi riparte con il rialzo dei prezzi e fa un nuovo massimo poi fa un swing high nuovo pavimento anche qui così lo vediamo da più vicino candela bullish riaumento della volatilità ritracciamento boom aumento nuovamente la volatilità ecco che ci possono essere i presupposti per cercare magari delle conferme a 4 ore di entrare direttamente sul daily poi ancora guardate qui massimo qui poi lui si fa un movimento subito crea in effetti in realtà una un setup inside e riparte quindi ancora andiamo a vederlo poi un po' più avanti ecco qua prendiamo l'ultima parte del grafico vedete che lui cosa fa fa vabbè il massimo di swing poi bam pavimento eccolo qua aumento di vola tag segnale magari entrata su ritracciamento o cerchiamo delle conferme a 4 ore poi ancora tiene guardate qua altro input boom ancora tiene eccola qua barra con long tail e tiene movimento poi ancora base eccola qua barra setup sul pavimento movimento boom inside bar movimento a rialzo quindi dobbiamo cercare di capire queste dinamiche della tendenza perché sono sicuramente molto molto interessanti per fare un trading profittevole ma anche efficace semplice poi nella lettura quindi leggiamo i pavimenti e le e le e i soffitti quindi anche su 4 ore poi li vedrete ovviamente li vedrete in maniera più eccolo qua con più barre ogni daily sono 6 barre a 4 ore è ovvio quindi voi dovete partire dal daily e poi magari cercare delle conferme a 4 ore se volete cercare la conferma come dicevamo in altri video anche recenti quindi capite un po' la dinamica del pavimento del swing high e del swing low è importantissimo cercare di afferrare questo concetto vediamo anche un mercato come per esempio l'argento ecco qua l'argento mercato molto interessante nell'ultimo periodo che ha fatto dei swing high e dei swing low anche lui grafico daily movimenti dovete sempre cercare di capire massimi e minimi swing high e swing low e poi si il pavimento se crea un pavimento potrebbe creare un setup barra inside guardate qua rottura della mother bar boom movimento poi ancora pavimento pin bar sul pavimento eccolo qua e anche qui si può cercare un movimento rialzista poi ha fatto qui un mini un mini cosa il pavimento non ne fa quasi più il pavimento migliore sono questo e questo quindi crea un pavimento proprio un mercato che rimane al di sopra ma neanche fa un movimento subito di tendenza ma ci rimane al di sopra battendo più volte per poi creare dei setup di price action in questo caso inside bar in questo caso pin bar quindi cerchiamo sempre di capire di entrare all'interno della price action che ci fa il mercato e da lì fare un certo tipo di di discorso magari in un prossimo video parleremo diciamo dei massimi del soffitto che crea la stessa dinamica però in ambito short a questo punto direi che per oggi è tutto vi chiedo ovviamente di lasciare un bel like un bel commento così che magari possono anche uscire delle nuove idee per nuovi video iscrivervi al canale e noi ci vediamo direttamente al prossimo video un saluto a tutti e noi ci vediamo